Ci arriva direttamente dall'Ipsia Pertini di Terni. Grazie ad un accordo con ARPA Umbria siglato nella giornata di venerdì 15 gennaio 2021 per gli studenti che si iscriveranno all'Istituto Omnicomprensivo Ipsia Pertini CPA di Terni nel settore ambientale, si apriranno nuove opportunità formative e di lavoro. Il direttore dell'Agenzia, l'ingegner Luca Proietti, e il dirigente scolastico dell'Ipsia, il professor Fabrizio Canolla, hanno firmato una convenzione che prevede lo scambio delle competenze fra i tecnici ARPA e i docenti dell'Istituto Professionale in indirizzo tecnico per la gestione delle acque e del risanamento ambientale, prevedendo inoltre pacchetti percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti presso i laboratori ARPA e durante le attività di controllo del territorio. Come direttore di ARPA, ha detto l'ingegner Proietti, Tengo a sottolineare che la nostra istituzione, da sempre impegnata in prima linea nel monitoraggio dei fenomeni dell'inquinamento ambientale e del dissesto idrogeologico, è molto interessata a sviluppare relazioni con le istituzioni scolastiche. Ed ora, come sempre, scopriamo in collaborazione con il Trebimeteo che tempo farà e quale clima ci aspetterà. Buona giornata da Nikos Chiodetto. Partiamo, come sempre, dall'immagine del Trebimeteo.